Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto misura urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina contenente le norme sulla riduzione delle accise. Adesso afferba il Codacons i prezzi di benzina e gasolio devono immediatamente scendere alla pompa di 30,5 centesimi di euro al litro o i distributori di carburanti saranno denunciati in procura per le possibili ipotesi di appropriazione in debita e truffa. Il decreto ha effetto immediato e prevede che le accise siano ridotte di 25 centesimi al litro con una riduzione dei listini alla pompa pari a 30,5 centesimi di euro. Calcolando anche l'IVA spiega il Codacons la benzina per effetto delle nuove disposizioni deve così costare oggi presso i distributori circa 1,87-1,88 euro al litro il gasolio, 1,84-1,85 euro al litro. Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons spiega che se i gestori non si adegueranno al decreto e al governo saremo costretti a denunce in tutta l'isola contro chi non abbassa i prezzi per le possibili ipotesi di appropriazione in debita e truffa. In tal senso l'associazione invita tutti i cittadini a segnalare al Codacons i distributori di carburanti che non si sono adeguati alle nuove disposizioni e non hanno ridotti i prezzi e quelli che ancora vendono benzina e gasolio a prezzi superiori ai 2 euro al litro. Qualche giorno fa sempre il Codacons aveva fornito i dati relativi agli aumenti dei prezzi di benzina e gasolio, un vero e proprio salasso per famiglie e imprese. A causa dell'escalation senza sosta dell'istina e la pompa aveva detto Tanasi un pieno di verde costa in media 32,5 euro in più rispetto allo scorso anno, più 39,3 un pieno di diesel. Questo significa che ai livelli attuali dei prezzi una famiglia va in conto ad una stangata baria più 780 euro anno in caso di auto a benzina e di rattura più 943 se dispone di un'auto a gasolio solo per i maggiori costi di rifornimento.